voglio partire subito facendo una domanda siamo ancora convinti siete ancora convinti che il centrocampo dell'inter sia il più forte di questo campionato di serie a come in tanti dicevamo in estate al momento del mercato ecco secondo me sì secondo me sì nonostante il livello in serie a si sia alzato ci sono tanti centrocampisti forti tante squadre che hanno un centrocampo molto forte però quello dell'inter per me rimane il più forte anche se punto numero uno per ora non è mai stato al top della condizione con tutti gli interpreti almeno perché prima uno poi l'altro tutti si sono fermati e solo adesso piano piano stanno cominciando ad ingranare nelle ultime gare prima di questa sosta per le nazionali punto numero due è un centrocampo che comunque secondo me è composto ancora da alcuni giocatori che devono crescere devono convincere pienamente questo ci porterà a fare anche delle riflessioni di mercato che porteremo all'interno di questo contenuto di oggi che è il secondo appuntamento con il nostro pagellone della prima parte di stagione abbiamo analizzato nel primo contenuto la difesa e adesso partiamo con il centrocampo appunto in questo nuovo episodio di oggi ben ritrovati allora amiche amici passione interisti vi invito a lasciare un mi piace se non lo avete ancora fatto mi raccomando iscrizione al canale clic sul tasto iscriviti così non vi perdete neanche uno dei contenuti che vi portiamo ogni giorno qua su passione inter torna allora il nostro tier maker e riprendiamo da dove avevamo lasciato abbiamo analizzato porta e difensori con alcuni interpreti che non abbiamo ancora praticamente visto come tomas palacios e joseph martinez che rimangono fuori per il momento giudizio sospeso adesso andiamo a parlare del centrocampo e quelli che seguono saranno i voti e i giudizi espressi dalla community del club di passione inter cioè i nostri abbonati i nostri sostenitori del club di passione inter hanno ricevuto un sondaggio con cui hanno espresso i loro voti le loro preferenze su tutti i giocatori dell'inter in base a quello che è stato secondo loro il rendimento dall'inizio della stagione ad oggi e quindi i risultati sono i seguenti partiamo da Matteo Darmian quindi includiamo nei centrocampisti anche i quinti e secondo la stragrande maggioranza della nostra community Matteo Darmian si merita di finire nei ok scusate con il 69 per cento dei voti 23 per cento dei voti lo ha messo anche nei top il 6 per cento invece addirittura nei rimandati io non sono d'accordo con i rimandati secondo me Darmian quest'anno ha sbagliato davvero una sola partita per il resto rimane valido quel discorso che ho sempre fatto nel senso che per me è arrivato il momento per per Darmian di non essere il titolare soprattutto lì da quinto a destra l'Inter per fare un passo in avanti anche a livello internazionale ha bisogno di un Dumfries che si prenda quel ruolo bisogno comunque di un giocatore forte che si prenda quel ruolo e tra poco poi magari parliamo di Dumfries a parte Darmian è un ottimo jolly molto valido che però comunque a livello di gol di assist di contribuzione offensiva qualcuno dice che è nullo per me assolutamente non lo è e lo stiamo vedendo che comunque è diventato un fattore anche nella gara con l'Empoli per esempio e e non soltanto quindi ancora una volta certo si può trovare qualcuno che faccia ancora di più ma Darmian è assolutamente molto più che affidabile in questo avvio di stagione su Dumfries invece c'è stata una netta spaccatura della nostra community perché Dumfries si prende addirittura nel 7% dei voti l'MVP come migliore o tra i migliori in assoluto di questo avvio di stagione secondo alcuni il 38,5% lo mette nei top 38,5% lo mette negli ok e il 15,4% lo mette nei rimandati quindi c'è un exequo top ok però con anche una fetta molto importante che lo mette nei rimandati sostanzialmente questo secondo me intanto la dice lunga su quello che sta facendo Dumfries in questo avvio di stagione facendo un po' una media vedendo che il rimandato comunque più corposo dell'MVP Dumfries finisce secondo me in una fascia ok e non andrei molto non andrei sul top ecco lo faccio scendere sull'ok come valutazione magari non dopo Sommer ma un pochino più su probabilmente un giocatore che ha grandi mezzi che come dicevo anche l'altro giorno comunque in attacco con la sua fisicità con il suo atletismo fa succedere delle cose difensivamente è cresciuto negli anni all'Inter ma ancora oggi ha delle lacune nella fase di dribbling nella fase anche tecnica secondo me dell'interpretazione del ruolo e anche delle disattenzioni difensive che lo hanno portato a giocare delle partite in cui era determinante in alcuni momenti in alcuni momenti è stato anche dannoso quindi Dumfries deve trovare quell'equilibrio quella continuità perché abbiamo bisogno del vero Dumfries in questa nuova parte di stagione adesso per poter decollare anche in Europa Nicolo Barella passiamo ai centrali su Barella so che ci sarà tanta discussione il 70 per cento dei nostri sostenitori anche qualcosina in più in realtà lo mette nei top quindi Nicolo Barella addirittura per il 38 scusate per il 15 per cento è addirittura da MVP qualcuno lo mette negli ok e c'è chi lo ha messo addirittura nei rimandati non sono d'accordo con i rimandati Barella è un giocatore che io ho criticato in queste settimane anche il voler strafare in alcuni momenti però è troppo evidente secondo me l'importanza di Nicolo Barella all'interno di questo centrocampo e l'avvio di questa stagione con il gran gol all'Atalanta ci si aspetta magari qualche gol in più da Barella ma già dall'anno scorso come ho detto più volte sta facendo questa maturazione da equilibratore che è davvero fondamentale per il centrocampo e anche se anche se mi sposto su a can Ceranoglu che è il primo giocatore che tra quelli che stavamo commentando tra difesa e centrocampo che in tanti hanno votato anche per MVP cioè ha ricevuto veramente veramente tanti voti perché addirittura il 32 per cento circa dei votanti lo ha messo come MVP il 46 per cento l'ha messo come top e una della percentuale rimanente è andata sull'ok quindi Ceranoglu lo possiamo mettere primo dei top in questo momento come valutazioni è un cielo che è stato un po' limitato che ha sbagliato questo rigore contro il Napoli che probabilmente può aver fatto abbassare anche la valutazione io ho sempre detto in questi anni che c'è un inter con un inter senza Barella ecco dopo questo più di stagione la mia sticella si sta spostando molto anche su Ciala cioè che è un inter che senza Ciala cambia tantissimo e lo abbiamo visto anche con le difficoltà che abbiamo avuto nel nei vari esperimenti tentati per trovare il sostituto di Ciala in sua assenza quindi è un Ciala che sta diventando veramente molto importante e anche lui ha avuto un avvio di stagione un pochino diesel però è stato un pochino tutto il centrocampo che non ha performato al meglio in tutte le gare ma Ciala è stato in alcuni momenti stiamo assolutamente rivedendo un Ciala molto vicino anche a quello dell'anno scorso. Frattesi spacca in due con un 61% negli ok e un 39% nei top quindi è un frattesi sicuramente anche qua divisivo come al solito perché con il suo grande contributo offensivo strappa sempre grandi voti dall'altro lato si prende spesso delle critiche per la sua fase difensiva la sua partecipazione al palleggio che non sono ancora al livello del di chi sta davanti nelle gerarchie in particolar modo di Nicola Barella detto questo per me frattesi quest'anno intanto ho trovato più spazio grazie anche ai vari acciacchi che ci sono stati e a tutto quello che è successo in questo video di stagione ma soprattutto per me poi ditemi voi se siete d'accordo sta dimostrando una crescita nelle due fasi sia nella fase interdizione con delle lacune ma su cui sta lavorando ma anche nella fase di palleggio grazie anche al lavoro che sta facendo il nazionale con con Spalletti. Arriviamo poi al primo voto negativo da parte della nostra community vediamo se indovinate di chi si tratta faccio 3 2 1 si tratta di Christian Aslani. Christian Aslani è il primo rimandato secondo la nostra community 70% dei voti lo piazza nei rimandati addirittura c'è un 10% quasi che lo mette nei flop e un 20% circa che lo mette negli ok quindi Christian Aslani finisce nei rimandati c'è da dire che Aslani è stato condizionato dall'infortunio è stato anche sfortunato perché in assenza di Ciala non ha potuto sfruttare la grande opportunità di mettersi in mostra quindi anche un po' di sfortuna mi dispiace per per Christian è però diciamo dopo questo video di stagione confermato per quello che abbiamo visto che la più grande distanza probabilmente tra titolare e sua alternativa nell'Inter è proprio in quel reparto lì tra Ciala e Aslani Aslani è un giocatore che come dico sempre se Inzaghi comunque non lo fa giocare non penso sia masochista anche se quest'anno gli ha dato una fiducia crescente ecco siamo un po' all'anno del dentro fuori probabilmente per questo giocatore che è un classe 2002 tante volte abbiamo detto che a questa età né Ciala né Brozovic magari erano a questi livelli in quel ruolo lì però dopo tre anni di Inter siamo un po' al momento del delle decisioni da questo punto di vista e io penso che se Aslani non decollerà in questa seconda parte di stagione non convincerà pieno come come vice Ciala saranno inevitabili delle riflessioni di mercato con l'idea di sostituirlo con un profilo magari più pronto come un profilo di cui ho parlato anzi parlerò in un episodio che uscirà nelle prossime ore molto molto interessante ma l'Italia in generale comunque sta guardando vari nomi in quella zona di campo lì evidentemente qualche valutazione è in corso anche su Aslani però chiedo a voi che cosa vi aspettate da Aslani in questa seconda parte di questa prossima parte di stagione che ci che ci che andremo ad affrontare. Andiamo con gli ultimi nomi con Mkhitaryan Mkhitaryan ha avuto una partenza che lo avrebbe portato di diritto nei flop e qualche strascico di questa partenza deludente sicuramente la si ritrova nelle valutazioni che però lo portano al 46 per cento negli ok al 30 per cento addirittura nei top e invece solo al 23 per cento circa nei rimandato quindi è un Mkhitaryan che era partito male sicuramente che continua a sbagliare tante occasioni da gol però poi anche la partita con la Juventus lo ha un po' riportato in alto ma secondo me già nel post derby dopo il derby anche forse qualcosina nel derby si era rivisto qualche segnale di crescita da parte dell'Armeno che come equilibratore è diventato un giocatore veramente fondamentale per Inzaghi ecco forse la critica che si può muovere va bene che sia fondamentale forse non è veramente imprescindibile nel senso che non è detto che debba giocare veramente sempre tutte le partite soprattutto nel momento in cui hai un'alternativa come Piotr Zianischi che il 70 per cento dei nostri sostenitori mette nei top e il 30 per cento invece mette negli ok no scusate il contrario il 70 per cento mette negli ok il 30 per cento nei top quindi Zianischi lo mettiamo lì un Piotr Zianischi che da regista interditore alla Cianoglu ci ha fatto vedere qualcosina di interessante nel tocco del pallone in fase di interdizione è chiaramente indietro a Cialad è lì secondo me che si è sentita maggiormente la differenza nel ruolo di Mezzala secondo me è un'alternativa molto credibile a Mkhitaryan che che potrà decollare potrà far bene e potrà essere sicuramente impiegato di più e diventare un giocatore importante per per questa Inter chi è già invece un giocatore importantissimo è il primo MVP che andiamo ad inserire in questa in questa lista poi dopo se ce ne saranno altri nel nelle prossime puntate sceglie ne sceglieremo uno solo ma intanto Federico Di Marco lo piazziamo lì perché il 53 per cento dei votanti del club elegge Federico Di Marco come MVP come miglior giocatore di fatto di questo avvio di stagione il 47 per cento lo mette nei top quindi siamo tutti d'accordo sul fatto che Di Marco stia facendo una grandissima stagione forse questa è la stagione in cui Di Marco si sta imponendo come il miglior interprete di quel ruolo a livello internazionale lo dicono i dati lo abbiamo analizzato con delle statistiche anche nel corso delle nostre dirette che lo fanno salire proprio al top veramente nella classifica anche a livello internazionale ha ancora qualcosina dal punto di vista fisico su cui puoi crescere cioè in tanti dicono però dopo il settantesimo è cotto in realtà secondo me quest'anno è molto migliorato anche anche in questo aspetto poi è chiaro che è un giocatore che si spende tantissimo forse ecco si spende forse anche troppo nel senso che lui essendo anche così interista la sente così tanto che dentro le partite ci mette anche non solo qualcosina in più ma forse ci mette addirittura troppo e questo secondo me può essere un qualcosa su cui può ancora migliorare ma stiamo parlando di un giocatore che è un vero e proprio fattore è cresciuto tantissimo anche nel suo modo di andare ad attaccare l'ultimo terzo di campo credo sia anche il giocatore non il difensore non l'attaccante non l'esterno proprio il giocatore in assoluto che ha toccato più palloni nell'ultimo terzo di campo in serie A per farvi capire quanto è offensivo il nostro Federico Di Marco e anche dietro comunque magari non sarà Maldini o Cannavaro ma il suo apporto si fa sentire la combinazione con bastoni funziona veramente molto bene queste sono quindi le valutazioni sul centrocampo dell'Inter con un po' di ragionamenti sopra fatemi sapere se siete d'accordo con il nostro club se non siete d'accordo c'è una sola cosa da fare entrate anche voi nel club di Passione Inter così date i vostri voti i vostri giudizi e ci fate sapere anche le vostre considerazioni quindi su www.passioneinter.club vi aspetto per darvi accesso a contenuti esclusivi e tante altre cose molto molto belle da condividere con tanti interisti da tutto il mondo vi lascio con un altro approfondimento che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast mentre per chi ci segue da youtube vi basta cliccare qui A presto! A presto! Grazie a tutti.